y uguale a radice di x al quadrato meno 9. È una novità dal punto di vista dello studio di funzione, ma non lo è da un punto di vista di cosa rappresenta. Adesso vediamo, prima di fare lo studio di funzione, se riesco a farvela riconoscere. Intanto, vabbè, stabiliamo subito il dominio, così sappiamo di che stiamo parlando. x al quadrato meno 9 deve essere maggiore o uguale a 0, il che vi porta a x meno 3 per x più 3 maggiore o uguale a 0. È risolta per valori esterni. Mettete i due capisaldi meno 3 e 3 e sapete che il dominio è questo che ho evidenziato. Quindi è l'insieme di due intervalli. Quindi l'intervallo meno infinito meno 3, con 3 compreso, unito con l'intervallo 3 più infinito. Volevo aiutarvi a riconoscere il grafico di questa funzione cambiandone un attimo la struttura. Per ora è scritta in forma esplicita. Dal momento che sia y che x al quadrato meno 9 devono essere positivi o nulli al più, possiamo elevare al quadrato e otteniamo y al quadrato uguale x al quadrato meno 9. Ora portiamo x al quadrato al primo membro e abbiamo y al quadrato meno x al quadrato uguale meno 9 e cambiando disegno x al quadrato meno y al quadrato uguale 9, dividiamo tutto per 9 e otteniamo x quadro fratto 9 meno y quadro fratto 9 uguale 1. E' un iperbole. E in particolare 9 e 9 sono uguali, per cui che tipo di iperbole è? E' un iperbole equilatere. Questo 9 sotto radice diventa 3, quindi un 3 ci aspettiamo di farlo, di vederlo, e già lo vediamo qui nel dominio. Sono spuntati un meno 3 e 3 che probabilmente corrispondono con i due vertici reali dell'iperbole. Poi ci sono i vertici non reali, ma quelli nello studio di funzione non li vediamo perché sono fuori dal dominio della funzione. Quindi vediamola adesso, torniamo a vederla per quello che era l'inizio, una funzione irrazionale e cerchiamone tutte le caratteristiche. Il dominio l'abbiamo trovato, dobbiamo trovare intersezioni con gli assi e segno. Questa funzione è sempre. sempre positiva, a eccezione di quando prendete x uguale esattamente a meno 3 e a 3, ovviamente il radicando si annulla, l'abbiamo già visto, quindi sappiamo già che la funzione si annulla a meno 3 e 3, cioè agli estremi del dominio, e poi è sempre positiva. Questo tra l'altro ci dice un paio di cose anche sulle intersezioni con gli assi. Lo 0 è fuori dal dominio, quindi cercare l'intersezione con l'asse delle ordinate non ha significato. Non ci sono intersezioni con l'asse delle ordinate. Le altre intersezioni, chiaramente a parte meno 3 e 3, non si annulla da nessun'altra parte. Quindi praticamente abbiamo già le intersezioni, sono il punto A di coordinate meno 3 e 0 e il punto B di coordinate 3 e 0. Ci siete? E prima ancora di calcolare qualsivoglia derivata abbiamo già anche un'altra informazione. 0 è 0, sia in corrispondenza della scissa meno 3, sia in corrispondenza della scissa 3, visto che poi la funzione è sempre positiva. 0 che cos'è per la funzione? La funzione è sempre positiva. 0 è il minimo assoluto della funzione, quindi sappiamo che la funzione è limitata inferiormente con minimo uguale a 0. E sappiamo anche dove viene assunto questo minimo. Tra l'altro, questi sono minimi che non vengono scovati dallo studio della derivata, perché essendo posizionati agli estremi del primo intervallo e all'estremo del secondo intervallo, non è applicabile a questi minimi il teorema di Fermat. Non essendo interni all'intervallo, non è detto che la derivata sia nulla in corrispondenza di meno 3 e 3. Quindi abbiamo un primo esempio in cui andiamo a pescare un massimo o un minimo, in questo caso un minimo, senza l'annullamento della derivata, per il semplice fatto che si tratta di estremi dell'intervallo. Mancano i limiti, per cominciare a vedere appunto se ci sono asintoti. Non ci sono punti di discontinuità interni agli intervalli meno infinito, meno 3 e 3 più infinito. Poi la funzione non è definita tra meno 3 e 3, ma qui, diciamo, è semplicemente perché è divisa in due rami, e già lo sappiamo, ce l'aspettiamo che sia divisa in due rami, sono i due rami dell'iperbole, della semi-iperbole in questo caso. Invece andiamo a calcolare i limiti per x che tende a meno infinito e a più infinito. Allora, qua abbiamo il limite per x che tende a meno infinito della radice di x al quadrato meno 9. E chiaramente x al quadrato tende a più infinito. Di conseguenza x al quadrato meno 9 comanda x al quadrato tende anch'esso a più infinito. E sotto radice non cambia il discorso, tende sempre a più infinito. Ci siete su questo? E analogamente per x che tende a più infinito, chiaramente il comportamento è lo stesso, non c'è bisogno di ripetere il ragionamento perché abbiamo un più infinito. Ma prima ancora di continuare, il fatto che si sia ottenuto lo stesso comportamento a più e meno infinito è dovuto ad una caratteristica della funzione. Avete notato che il dominio della funzione è simmetrico rispetto all'origine? Meno infinito meno 3 è 3 più infinito. Avendo un dominio simmetrico e notando che la x compare soltanto col quadrato, ovviamente è una funzione pari, avremmo dovuto controllarlo prima, lo facciamo adesso. Infatti se calcolate f di meno x, avete radice quadrata di meno x al quadrato meno 9, chiaramente il quadrato sterilizza il segno meno e vi ritrovate con x al quadrato meno 9, cioè f di x. Visto che f di meno x coincide con f di x, la funzione è pari. Di fatto noi ci possiamo a questo punto limitare a concentrare lo studio della funzione soltanto sull'intervallo 3 più infinito. Il resto poi lo replichiamo per simmetria, perché il grafico è sicuramente simmetrico rispetto all'asse delle ordinate. Tra l'altro è una cosa che ci aspettiamo se si tratta di un'iperbole centrata nell'origine. Da questo momento sono tutte conferme di quello che sapevamo dalle nostre conoscenze sull'iperbole. Adesso quindi ci limitiamo al caso 3 più infinito e poi tutto il resto lo disegneremo per simmetria. Il limite, vabbè, l'abbiamo già calcolato in entrambi i casi, abbiamo visto che fa più infinito in entrambi i casi, per cui non c'è un asintoto orizzontale, questo ci conforta. Se l'avessimo trovato chiaramente saremmo stati in difficoltà, visto quello che ci aspettiamo. Andiamo a vedere se c'è l'asintoto obliquo. Quello ce lo aspettiamo. L'asintoto obliquo va cercato effettuando il calco del limite per x che tende a più infinito del rapporto f di x fratto x, ovvero il limite per x che tende a più infinito della radice di x al quadrato meno 9 fratto x. Visto che stiamo facendo il limite per x che tende a più infinito nell'intervallo 3 più infinito, la x è positiva, quindi possiamo impunemente far entrare la x all'interno della radice mettendo il quadrato. E ci ritroviamo con limite per x che tende a più infinito della radice di x al quadrato meno 9 fratto x al quadrato. A che serve questo piccolo trucchetto? Serve a ritrovarci una funzione razionale fratta all'interno della radice di cui sappiamo calcolare il limite. Dovreste già aspettarvi qual è il risultato di questo limite, ma evidenziamo il procedimento che solitamente viene usato per le funzioni razionali fratte. Raccogliamo a fattore comune x al quadrato e ci ritroviamo con 1 meno 9 su x al quadrato sopra e x al quadrato sotto. In questo caso, semplificate x al quadrato, questo tende a 0 e vi ritrovate con 1 come limite, ci siete, che il rapporto fa 1 e sotto radice viene 1. E a questo punto abbiamo un candidato coefficiente angolare per il nostro asintoto. Questo dovrebbe essere m, a condizione di trovare chiaramente anche il termine noto. Per il termine noto, q, dobbiamo fare il limite per x che tende a più infinito della differenza f di x meno mx con m uguale a 1. Quindi andiamo a fare il limite per x che tende a più infinito di radice quadrata di x al quadrato meno 9 meno x. Allora, adesso vi ritrovate con un limite che non è esattamente immediato. Ci sono diverse strade per calcolarlo. Uno è andare a ripescare qualche limite notevole. Oppure possiamo, visto che l'abbiamo imparato ormai, trovare il modo di utilizzare il teorema di De L'Hôpital. Ovviamente bisogna porlo in una forma che ne consente l'applicazione. Serve sostanzialmente una forma indeterminata del tipo 0 su 0 o infinito su infinito. In questo momento che tipo di forma indeterminata abbiamo davanti? Abbiamo un infinito meno infinito esattamente, quindi dobbiamo in qualche modo ricondurci al caso 0 su 0 o infinito su infinito. Per farlo, chiaramente bisogna trasformare un attimo la funzione. Proviamo a raccogliere la x e quindi scriviamo il prodotto x per radice di x al quadrato meno 9 moltiplicato 1 su x meno 1. Adesso guardiamo un attimo che cosa abbiamo davanti. x tende a più infinito. Questo rimane 1. Il limite di radice di x al quadrato meno 9 fratto x l'abbiamo fatto poco fa nel calcolare m. Se guardate questo limite qui, radice di x al quadrato meno 9 fratto x, e abbiamo visto che fa 1. Quindi sappiamo che questo pezzo qui tende a 1, il che significa che questo fattore tende a 0. Mentre invece il fattore x tende a più infinito. Siamo quindi arrivati alla forma indeterminata del tipo 0 per infinito. Non è ancora quello che stiamo cercando, ma poco ci manca. Possiamo arrivare facilmente ad uno 0 su 0, ad infinito su infinito con un trucchetto. Ovviamente non è detto che la strada che scegliamo sia la più semplice. Dobbiamo tentare a vedere se funziona, perché le due strade potrebbero essere una più difficile e una più semplice. Se vogliamo la forma indeterminata del tipo 0 su 0, bisogna portare la x al denominatore invertendola come 1 su x. Viceversa, se vogliamo la forma del tipo infinito su infinito, deve essere questa da andare al denominatore. Tentiamo con il portare al denominatore x. Quindi scriviamo le cose in questo modo. Limite per x che tende a più infinito di linea di frazione. Al numeratore riscriviamo la radice di x al quadrato meno 9 fratto x meno 1 e al denominatore scriviamo 1 su x. Mi fermo un attimo. Ci siete tutti? Benissimo. Ora ci ritroviamo con uno 0 al numeratore e uno 0 al denominatore. Quindi siamo con una forma indeterminata del tipo 0 su 0. E possiamo tentare di applicare il teorema di Del'Hopital. Si deve fare la derivata del numeratore e separatamente la derivata del denominatore. Chiamiamo con f grande di x il numeratore e g grande di x il denominatore. Calcoliamo le due derivate. f grande di x è chiaramente la radice di x al quadrato meno 9 fratto x meno 1 e g grande di x è 1 su x. Calcoliamo le derivate di queste due funzioni. Se f di x è radice di x al quadrato meno 9 fratto x meno 1, scriviamolo così. Radice di x al quadrato meno 9 diviso x al quadrato meno 1. Così anziché fare la derivata del rapporto facciamo la derivata della radice come funzione composta. f primo di x è uguale derivata della radice, quindi al denominatore mettiamo due volte tutta la radice x al quadrato meno 9 fratto x al quadrato e al numeratore la derivata del radicando, cioè la derivata di una frazione. derivata della frazione che fa x alla quarta sotto e sopra abbiamo 2x che è la derivata del numeratore che moltiplica x al quadrato e poi abbiamo meno il denominatore non derivato, o meglio il denominatore derivato per il numeratore non derivato. quindi anche qui spunta fuori un 2x che moltiplica x al quadrato meno 9, meno 1 alla derivata che fa 0. 2, 2 e 2 si va a semplificare. Poi raccogliendo al fattor comune abbiamo sotto A questo punto ricopriamo x alla quarta, qui raccogliamo x e ci ritroviamo con x al quadrato, poi c'è un meno x al quadrato e un più 9. A questo punto x al quadrato e meno x al quadrato si semplifica e abbiamo x e x alla quarta che si semplifica a sua volta, questo va via e questo diventa 3. abbiamo ancora 1 o 2 passaggi. Facciamo di nuovo uscire questo x al quadrato fuori, quindi abbiamo 1 su x radice di x al quadrato meno 9 e sopra abbiamo 9 su x alla terza. x alla terza e x si semplificano e qua abbiamo x al quadrato, alla fine viene fuori un 9 fratto x al quadrato x al quadrato meno 9. f' di x su g' di x è uguale. Allora f' di x abbiamo detto è 9 fratto x al quadrato per radice di x al quadrato meno 9 e g' di x è meno 1 su x al quadrato. Dovremmo esserci perché ora x al quadrato x al quadrato va via come prima e ci ritroviamo con 9 con un segno meno fratto radice di x al quadrato meno 9 e di questo se ne facciamo il limite effettivamente fa 0, limite per x che tende a più infinito di meno 9 fratto radice di x al quadrato meno 9, questo fa 0, quindi se questo è il risultato ci siamo, q viene uguale a 0 e abbiamo y uguale mx più q, ovvero y uguale x e basta. Questo dovrebbe essere l'asintoto obliquo. che corrisponde con la prima bisettrice, quindi siamo ancora sulla strada dell'iperbole. E adesso si tratta di calcolare la derivata della funzione originale che andiamo a riprendere. Vabbè, per fortuna la funzione originale è meno complicata di queste che abbiamo calcolato adesso come derivata. f di x la riscriviamo in radice di x al quadrato meno 9, dobbiamo studiare il segno della derivata prima. f' di x uguale, linea di frazione, 2 sotto, radice di x al quadrato meno 9, poi dovete fare la derivata dell'argomento, 2x, 2 e 2 si semplifica e anche studiare il segno tutto sommato non è complicato. avete x fratto radice di x al quadrato meno 9. Ricordatevi che x deve essere maggiore o uguale a 3 e tenendo conto che x al quadrato meno 9 è spuntata dal denominatore, questo uguale lo dobbiamo togliere. Significa che per x uguale a 3 la funzione non è derivabile. Quindi a conferma del fatto che il minimo assoluto che abbiamo per x uguale a 3 non solo non ci aspettiamo che abbia come corrispondente la derivata nulla, addirittura non c'è neanche la derivata, la funzione non è derivabile per x uguale a 3 e quindi è un minimo ottenuto in un punto di non derivabilità o estremo dell'intervallo, sono tutte e due insieme. Comunque si vede subito, visto che x deve essere maggiore di 3, che questa derivata non cambia mai il disegno. Quindi lo studio della derivata inizia e finisce qui. La derivata è sempre strettamente positiva per ogni x appartenente al dominio, nel nostro caso all'intervallo 3 più infinito, che poi si replica per simmetria. E così la derivata prima è sistemata. Come ci aspettavamo per l'iperbole? Perché adesso noi sappiamo che cosa aspettarci dalla derivata seconda, che andiamo a calcolare. Rischiamo il valore della derivata prima, così non sbagliamo. La derivata seconda si ottiene, derivata di una frazione, al denominatore abbiamo x al quadrato meno 9, cioè il quadrato del denominatore. Al numeratore abbiamo x derivato fa 1, quindi abbiamo la radice di x al quadrato meno 9, meno la derivata del denominatore, che corrisponde con la derivata prima, perché è la derivata di radice di x al quadrato meno 9, quindi è x fratto radice di x al quadrato meno 9. Moltiplichiamo per x, che è il numeratore non derivato. x al quadrato meno 9, il denominatore comune lo mettiamo direttamente qua sotto, radice di x al quadrato meno 9, e poi radice per radice da x al quadrato meno 9 senza radice, meno x al quadrato. E qui è facile, x al quadrato e x al quadrato se ne va, che segno ha la derivata seconda? Questo, dovendo essere dallo studio del dominio sempre maggiore o uguale a 0, nel nostro caso strettamente maggiore di 0, non dà problemi per lo studio del denominatore, quindi questa derivata è sempre negativa, per cui la concavità è sempre rivolta verso il basso. Adesso per fare il grafico, raccogliendo tutti gli elementi che abbiamo a disposizione, facciamo gli assi cartesiani e replichiamo poi il grafico per simmetria anche a sinistra. Allora, noi sappiamo che un asintoto corrisponde con la prima bisettrice, e quindi l'andiamo a tracciare subito. Lo facciamo in verde. Ovviamente per simmetria ci deve essere un uguale asintoto dall'altra parte, corrispondente con la seconda bisettrice. Dopodiché, il dominio della funzione comincia a 3, e per simmetria a meno 3 dall'altra parte. Poi il grafico passa in terze calasse delle ascisse, proprio in corrispondenza di 3 a meno 3, quindi parte proprio da qui. E poi questo fa ad asintoto la concavità rivolta verso il basso, non ci sono flessi e non ci sono massimi o minimi relativi, per cui basta semplicemente tracciare il grafico in questo modo, appoggiando la funzione sull'asintoto. Come vedete, corrisponde proprio con l'iperbole. Tra l'altro, un'informazione che abbiamo è che questo è un punto di non derivabilità che corrisponde con l'annullamento del denominatore, cioè col fatto che la derivata diventa infinita. E questo ci dà contezza del fatto che in corrispondenza di meno 3 e 3 la tangente al grafico è verticale. Coefficiente angolare infinito significa tangente verticale. Ovviamente manca l'altra parte del grafico dell'iperbole, quella che starebbe sotto per simmerria attorno all'asse delle ascisse. Magari lo traccio in blu. Dovremmo tracciare la parte di sotto continuando per simmerria. Non c'è perché altrimenti così non è più una funzione, ma nel caso dell'equazione dell'iperbole avete anche questa parte, che nella funzione ovviamente non c'è. Grazie e arrivederci. Grazie.